Dopo più di due mesi di silenzio i giocatori del Catania tornano a parlare e così tocca a Gonzalo Bergessio spiegare l'astinenza in zona gold e rossazzurri 13 le reti segnate in totale, 2 dall'argentino che da poco tempo è tornato totalmente a disposizione dopo l'infortunio comincia dai palloni giocabili Bergessio Magari non le occasioni che avevo l'anno scorso però qua siamo tutti quanti responsabili ovviamente noi attaccanti abbiamo un porcentaggio più alto di responsabilità A chi gli chiede se sente il bisogno di una spalla diversa nel reparto avanzato Bergessio risponde che lui non fa mercato intanto alcuni attaccanti accostati al Catania nell'ultimo periodo raggiungono altri lidi di Vargas e Flocari L'argentino considera importante il ritorno di Lodi proprio per garantirgli i palloni da spingere in rete e di Maran perché, lo dice più volte, il problema da superare è psicologico Penso che dobbiamo fare un paio di risultati positivi dopo le cose cambieranno, penso io E' ottimo il rapporto col presidente, spiega Bergessio, mentre quello con i tifosi non è mai stato così in crisi Siamo un po' tristi per questa situazione, è la realtà e dopo penso che tutti insieme possiamo cambiare questo momento, questo presente Oggi prima seduta del Catania in vista dell'Inter e primo allenamento in gruppo dopo una lunga degenza per Almiron ancora differenziato per Alvarez Grazie mille Grazie mille